Buongiorno amici di Mattinotto, buon lunedì, buon inizio di settimana. Arrivano tante vostre richieste e noi siamo contenti perché c'è interazione. E proprio per questo c'è un gradito ritorno, voi ci richiedete appunto tra virgolette dei consigli e noi cerchiamo in qualche modo di, non dico accontentarvi, ma di indirizzarvi grazie allo specialista di quest'oggi, il professore dottore Antonio Paciglio. Ben trovato Doc. Buongiorno a voi. Podologo e posturologo, quindi mi raccomando state con le antenne ben dritte perché oggi trattiamo un argomento che riguarda alcune categorie, fasce d'età e forse anche con delle patologie pregresse, quindi in combo, patologie in combo. In combo, ci piace. Come stai Doc? Bene, bene, bene. Tante cose sempre da fare, ce lo diciamo ogni volta. Noi progetti, nuove cose da fare in evoluzione. Questa cosa ci piace molto, molto, molto. Allora, tema trattato di quest'oggi lo preannunciamo e sono proprio le ulcere cutanee e quindi in questo caso in particolar modo dei nostri piedi, delle caviglie, degli arti inferiori. Degli arti inferiori, ecco in generale. Prima di addentrarci perché tu ci darai tanti consigli utilissimi, voglio ricordare che potete prenotare subito un consulto e quindi recarvi presso l'unica sede del dottor Pacilio e di tutto quanto il team, chiamandolo 081 27 50 21. Andrete a San Giorgio a Cremano, invia Margherita di Savoia numero 25. Eppure potete fare anche delle domande o comunque delle richieste attraverso i canali social, anche YouTube, come potete vedere in sovraimpressione. Mi raccomando, c'è scritto bello tutto quanto in grassetto scuro, si riceve soltanto per appuntamenti, quindi non vi presentate così e fate una sorpresa. Assolutamente, da un bel no. Allora, entriamo in questo argomento. Siamo nel vivo. Sì, sì, come diciamo noi, no? Le ulcere cutanee degli arti inferiori. Innanzitutto che cos'è un'ulcera cutanea, caro doc? Allora, l'ulcera cutanea è di per sé una lesione, quindi diciamo una ferita, che si presenta, nel nostro caso, per quello che riguarda i piedi e gli arti inferiori, ma che di fatto può presentarsi in altre zone del corpo e che difficilmente tende a cicatrizzare e ripeterizzare da sola. Motivo per il quale, questa è la mia immagine spiegativa, la, sempre il concetto di prevenzione, il concetto di affidarsi ai giusti specialisti è ovviamente il primo step principale da mettere in atto per ovviamente non avere problematiche o non avere delle ulteriori problematiche legate appunto alla comparsa delle ulcere. Parliamo di prevenzione. Esatto. Eh, poi piano piano si riferiamo tutto. Sì, sì, assolutamente. Il 70% circa delle ulcere rappresentano ulcere legate a delle problematiche vascolari e quindi dentro il gioco il discorso dei deficit vascolari. Quindi persone che hanno delle problematiche quali microangiopatia, macroangiopatia o per riassumere dei campanelli di allarme dove visivamente si manifestano delle teleangiocetrasie quindi quei piccoli capillari che le donne presentano anche dopo la gravidanza. Anche le vene varicose? La presenza di varici. Ok. La presenza di sintomatologia associata, quindi pesantezza alle gambe, facile stancabilità e cose del genere. Sono dei piccoli campanelli che ci fanno iniziare a capire che bisogna andare dallo specialista. Ok. O si può iniziare ad andare dal chirurgo vascolare per effettuare appunto la consulenza vascolare di il doppio e il vascolare, tutte le analisi del caso e di conseguenza il chirurgo vascolare ovviamente dopo l'analisi invierà il paziente a quello che lo specialista è adeguato in questo caso il podologo posturologo o idemmi il contrario, faccio l'avviso col podologo posturologo o anche delle problematiche vascolari che vanno ad indurre sulle mie problematiche verrò inviato allo specialista, anche allo specialista che si occupa di questo. Sempre per un discorso di sinergia professionale. Seconda cosa principale è che ovviamente il 30% invece delle altre ulcere sono ulcere legate a diverse problematiche come ad esempio le patologie di smetabotica, ad esempio il diabete, ulcere da pressione quindi legate al decubito, pazienti allettati. I pazienti anziani che sono all'età di tutta la giornata ovviamente presenteranno delle ulcere soprattutto a livello del calcagno, quindi del tallone, che difficilmente tendono ovviamente a riepitalizzare da sole. I pazienti diabetici invece possono essere anche più giovani, non necessariamente anziani. I pazienti diabetici dipendono dalla tipologia di diabeti, se il diabete è venito di tipo 1 con l'insulino dipendente, il diabete è venito di tipo 2 che ovviamente possiamo scoprire nel corso o nel decorso della nostra vita e che ovviamente può essere poi curato o attraverso la terapia insulinica appunto o attraverso gli ipoglicemizzanti orali, quindi la compressa per intenderci. Dipende ovviamente dal tempo in cui si è scoperti di essere diabetici, dai valori della glicemia, dai valori dell'emoglobina glicosinata che è un'analisi del sangue che il diabetologo, il medico in generale fa fare per valutare la media della glicemia nei tre mesi. Perché io posso anche io che non sono diabetico farmi l'analisi del sangue e avere un valore glicemico notevolmente alto perché prima di fare le analisi o magari il giorno prima ho mangiato o ho bevuto cose particolarmente zuccherate. Ok. Nel momento in cui si viene fuori un valore particolarmente alto, ovviamente io che sono del settore, ma lo specialista di per sé non fa altro di dire ok questo è troppo alto o la facciamo tra due mesi e la rifacciamo, facendo attenzione il giorno prima ad eseguire un'alimentazione normale, no? Non mangia niente, devi fare tutti i giorni normali. Però senza un eccesso. Senza esagerare. Oppure laddove è necessario, quindi ci sono anche dei segnali tipo la polidipsia, poliuria, cioè vado spesso in bagno, polifaggia, ho spesso sempre fame, sono dei campanelli del diabete. Ti faccio fare io, diabetologo, io medico di base o io, polologo, ti consiglio di andare al medico di base e farti prescrivere quelle che sono le analisi di cui appunto l'emoglobina che ho usato. Vedere nei tre mesi se quella glicemia è realmente legata a un solo o a due fattori, due singoli eventi episodici o se semplicemente hai abusato e quindi conseguenze di una glicemia molto alta nell'audito di tre mesi. Il famoso lavoro in team tra specialisti. Il famoso lavoro in team l'abbiamo sempre detto, esatto. Gli specialisti tra di loro dialogano per avere poi un risultato. Operano per avere un risultato che sia ottimale, anche per evitare che il paziente magari, a schifare l'insulina, può fare i proglicemizzanti orali. E quindi non avere quella limitazione nell'andare in bagno e farsi, se vai fuori casa, anche farsi la punturina prima di fare l'insulina e poi di andare a mangiare. Perfetto. E quindi diciamo, sono tutte cose che ti permettono di avere una vita più sana, più equilibrata e ovviamente con un target di salute e di benessere maggiore. Quindi prevenzione in primis e poi ovviamente farsi guardare gli specialisti adeguati. Ok. Hai parlato, caro Doc, di varie categorie, spesso con una patologia pregressa. Allora, è possibile invece che si presentino delle ulcere agli arti inferiori in soggetti mediamente giovani, giovani o comunque anche anziani invece che non hanno nessun tipo di patologia? Non hanno patologia, ma magari hanno avuto un evento traumatico particolare, un incidente in auto, un incidente in moto, oppure magari, e dopo lo vediamo, dopo c'è un'immagine, se non erro, di delle dita di un paziente che ha avuto delle complicanze, quindi di lesioni cutanee post-intervento di correzione ortopedica. Quindi le correzioni digitale, in realtà, di fatti, sotto la medicazione si era formata una lesione cutanea cronica, quindi la famosa ulcera. Ok. E che di conseguenza spontaneamente non ripetelizzava. Ovviamente l'obiettivo principale è andare a mettere in atto tutta quella serie di interventi podologici mirati, in quella che è fondamentalmente la famiglia delle lesioni cutanee croniche, dove ci sono anche lì delle linee guida, e quindi andare pian piano a migliorare quegli aspetti legati ai fattori che vanno ad incidere su quella che è la ripetelizzazione. Quindi migliorando quei fattori di conseguenza, migliorando la ripetelizzazione. Allora, questo è ad esempio un caso, e lo lasciamo così. Questo ad esempio è una... Vedi quelle crosticine nere che vedi lì? Sì. Sono le crosticine dei punti che erano l'accesso vero e proprio di quella che è la fresina per l'intervento di correzione e quindi per creare quelle che si chiamano osteotomie, cioè quelle fratture indotte dall'intervento di chirurgia ortopedica. Sì. Quello ovviamente è il bendaggio pre, è stato tolto il bendaggio, è venuto fuori questa cosa. Ovviamente sotto queste lesioni, una volta pulite e deterse, sono venute fuori delle piccole lesioni cutanee, quindi delle ulcere sottominate. Che non guariscono da sole. Che ovviamente là dove sotto il bendaggio, ti rendi conto che le condizioni igieniche sotto il bendaggio non sono particolarmente eccezionali perché è chiuso e quindi il piede... È umido. È umido. Due, non lo lavi, quindi igienicamente non è pulito. Tre, ovviamente questi fattori in seppese i germi due inducono uno sviluppo maggiore di contaminazione batterica. Quindi è più facile che una piccola lesione, una piccola ferita possa infettarsi. Oppure possa formarsi la crosticina sopra come succede in molti pazienti anche i diabetici e l'ucce deve essere sottominata sotto. Cioè io sopra vedo un tessuto quasi paradossalmente sano perché vedo callosità o vedo solamente una crosticina, di fatto non è altro che un tappo che si è venuto a creare lasciando sotto completamente l'infezione. E che cosa succede e come si interviene? Cosa interviene? Il paziente si va a rimuovere ovviamente quelli che sono gli ostacoli del processo di guarigione, quindi si fa tutta la detersione, la rimozione meccanica di questi che sono questi tessuti che incidono sulla ripetalizzazione e ovviamente poi il paziente viene pulita, detersa, medicata, terapia ovviamente antibiotica in sinergia con lo specialista che in questo caso era l'ortopedico ma o il medico di base e ovviamente in questo caso anche scaricare la lesione con uno scarico che permettesse di ridurre in pochi brevi giorni, quindi dopo solo una sua settimana, quella dimensione di quella lesione da questi. In un paziente con un'ulcera cutanea, come si è creata quell'ulcera? Quello è un paziente diabetico, vedi se ci fai caso, vedi quella prominenza dell'alluce era particolarmente evidente perché aveva un'accentuazione dell'arco plantare, quindi una sorta di pietecavo. Quel metatarso, il primo metatarso anziché stare in questa posizione, era più verticalizzato, quindi c'è una maggiore pressione di quell'osso al suolo che associata al diabete, che ricordiamo riduce, quindi c'è una cosa che si chiama neuropatia, dove vi è la riduzione o l'assenza di sensibilità. In associazione magari hanno una scarpa utilizzata per più tempo, una scarpa che magari all'interno presentava delle pietruzze, o ci troviamo pazienti che hanno dei chiodi dentro la scarpa, delle cose che sono cascate nella scarpa, che non se ne accorgono. Si forma quella lesione, che ovviamente va curata, detessa, trattata, in sinergia e nechi, e ovviamente anche scaricata. È risultato dopo una settimana, cioè dove c'è una riduzione dell'80% della lesione, dell'infiammazione, ma anche una buona già induzione a quello che è il processo di cicatrizzazione, quindi di ripitalizzazione. E quindi di guarigione. Poi come si può mantenere la guarigione in questo caso? Ovviamente il soggetto diabetico, a parità di terapia locale, e quindi anche della terapia antibiotica mirata, in sinergia col diabetologo e col medico di base, c'è anche il controllo dei valori della glicemia. Se io non vado a ridurre in maniera drastica e importante i valori glicemici, è normale che più a un momento della glicemia, la glicemia porta più facilmente all'infezione. Quindi io devo trattare la zona di ridurre le infezioni localmente, ma anche ridurre i fattori che in maniera generale possono indurre le infezioni. Quindi lavorare su tutto l'organismo, migliorare tutto il corpo. Quindi bisogna essere sotto controllo medico. Perciò non va mai sottovalutata, non va mai presa così, nessuna lesione, nessuna problematica del piede, perché non sappiamo mai se abbiamo sviluppato nel tempo le problematiche. Un altro fattore da tenere in considerazione è l'eventuale familiarità del diabete. Se io ho avuto dei nonni diabetici o un nonno diabetico, è probabile che nel tempo potrò, in associazione all'alimentazione non corretta, poter sviluppare il diabete. E io ne so qualcosa. E quindi il controllo dei valori glicemici è fondamentale. Il controllo dell'alimentazione è fondamentale. Edicazione terapeutica, educazione podologica, educazione alimentare. Altro paziente diabetico. Lesione sottostante da ustione. Quindi quello è proprio un ustione. Quello è un ustione di un paziente diabetico. In questo caso, per esempio, comunque non aveva tanto la percezione del dolore. C'è un paziente che si addormentano nel periodo invenale, praticamente con i piedi davanti al cammino, davanti alla stufa. Solo la mattina successiva si sono praticamente accorti del problema, ma semplicemente perché hanno sentito cattivo odore legato appunto alla lusione, alla bruciatura vera e propria. O hanno visto qualcosa che magari in frattempo è colata a terra del sangue, del pusso, del liquido serematico. Ma non necessariamente si sono accorti. Quindi hanno fatto tutta la notte in completa tranquillità a dormire. A dormire quindi senza accorti. Senza il suo problema. Quindi questo è molto importante, amici di mattino. Questo è fondamentale. È un messaggio importante da tenere in considerazione e da divulgare. Non addormentarsi mai vicino alle fonti calore, che siano i termosifoni, che siano la stufa, che sia il cammino. Mai. Perché ovviamente soprattutto nel soggetto più anziano, o che tende a sviluppare il diabete, o che è il diabetico ovviamente può sviluppare le esiglie di questo tipo. Quindi conseguenze gravi. Che cos'è questa parte rigonfia? Questa parte rigonfia è la parte metatarsale, che di fatto in questo paziente diabetico, nel diabete viene una retrazione tra i muscoli flessori ed estensori. Quindi che succede? Che in realtà i muscoli si accorciano, i tendini dei muscoli del piede. E quindi in realtà le dita si piegano. Piegano se le dita di fatto è più prominente la zona metatarsale. Quindi è più probabile che al di là della lesione da ostione si formino anche delle lesioni, delle lesioni pre-luccerative che sono le ipercreatosi, quindi le callosità. E che successivamente si formino delle lesioni ulcerative croniche. Quindi anche questo è un caso? Anche questa è un'anomalia biomeccanica del piede che, a prescindere dalla tipologia di lesione che si è formata, può ricondurre a quella che è una lesione ulcerativa del piede. Quindi parliamo di una condizione di non normalità già di base? Parliamo di una condizione di non normalità, ma di dei fattori che possono indurre, ma è un soggetto che si controla possono anche non indurre, perché è un soggetto di genere che porta a un plantare adeguato, che diminuisce i tempi di peso, che parliamo di un soggetto ovviamente abbastanza in cane, tipo 120-130 kg, quindi anche un piede abbastanza massiccio, un bel peso. Però se continuiamo in considerazione questi fattori e li miglioriamo, li riduciamo, li rendiamo più o meno fisiologici, ovviamente avremo meno complicanze. Perfetto, quindi amici, stati ascoltando bene, quindi occhio a tutte queste indicazioni, perché sono preziosissime, soprattutto per stare bene nella nostra quotidianità. Andiamo avanti con le immagini, perché ce ne sono altre di vario genere. Ecco, quindi questo diciamo era anche un piede abbastanza in carne. Ecco, vediamo. Questo è il pre-post, diciamo, a distanza di giorni, ma questo è il pre-post direttamente trattamento, cioè questa zona superiore, le prime delle immagini sono quando il paziente si è ricaduto da noi. La seconda immagine è successivamente dopo aver trattato la zona, cioè con la rimosione di quel tessuto, di quell'ipertrofia del tessuto, che come vedi sotto minava una lesione. Vedi quella zona rossa in basso lì? Sì. Se la vedi in alto, vedi solamente la zona marroncina, ma non minava in alcun tipo di lesione sottostante. Doc, io però devo chiederti una cosa, perché all'inizio, nella prima, nella primissima immagine, ma quell'alluce poi è così di grandi dimensioni, sempre per l'ulcera? Questo è ovviamente, nel momento in cui inizia un processo di infezione e di infiammazione, così come succedeva, come abbiamo detto nella scorsa puntata di pelluglia incarnita, cioè ovviamente l'infiammazione porta il gonfiore, e l'infezione porta il gonfiore. Anche sotto poi si formano, si esce un accumulo di tessuto, di liquido. È notevole la dimensione di quell'alluce, quindi praticamente... Ma inizia a gonfiarsi, la pelle inizia a diventare più lucida, ci sono una serie di condizioni anche visive principali che permettono di capire delle cose. E vedi anche il tessuto, l'importanza della quantità di tessuto che si era formata. Dopo l'eliminazione del tessuto è venuta fuori una lesione sottostante, che laddove non avessimo pulito e trattato la zona, avrebbe sicuramente creato delle compromissioni devastanti, perché una lesione non trattata in questo caso può arrivare a infettare l'osso, a creare un processo che si chiama osteomielite, cioè l'infezione dell'osso, esatto, che può portare a uno stadio più avanzato di trattamento che quello dell'amputazione. Parziale di un dito, dell'avampiede, del piede, della caviglia, fino ad arrivare alla transdibiale, all'amputazione fino sotto il ginocchio. Quindi io sto sgranando gli occhi, immagino voi che state guardando e ascoltando queste notizie. Perciò bisogna farlo prima, anziché prima di curare, non la pubblicità che faceva la picca tanti anni fa, non la pubblicità di curare, sempre. Eh, no, 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 ce lo prendiamo sempre questo claim, lo facciamo nostro. Quindi dobbiamo fare attenzione, soprattutto se abbiamo delle patologie come il diabete, o comunque appunto... Le patologie reumatoide, le patologie reumatiche in generale, pazienti particolarmente anziani, pazienti giovani con problemi corporalisti di coagulazione, pazienti giovani che hanno il diabete di tipo 1, anomalie congenite, genetiche... Assolutamente, assolutamente, Doc, il tuo messaggio è chiarissimo. Io vorrei tornare un pochino anche al pre, cioè prima di arrivare a ridursi così, no, e magari un soggetto che sa di avere già una patologia pregressa, può in qualche modo prevenire e aiutarsi anche con dei prodotti, una polvere magari anche del vostro metodo Pacilio, un plantare... Assolutamente, sicuramente può aiutarsi nelle fasi iniziali o comunque laddove non vi siano le lesioni, utilizzare i prodotti topici come quelli della linea Pacilio che permettono di andare a idratare la zona, quindi i pazienti diabeti, come intenderci, sono i pazienti in tanti che hanno la prima problematica della pelle e la secchezza cutanea, la xerosi cutanea, la dislerosi. Andare a idratare la zona permetterà sicuramente di evitare le ragadi, per esempio, calcaniare, che sono quelle fissurazioni che si formano al tallone, e evitare che si fomino delle lesioni nell'avampiede. Quindi anche quelle poi possono degenerare? Anche le ragadi calcaniari possono degenerare creando delle uccele calcaniari importanti e sono estremamente dolorose, ma estremamente dolorose in quella zona. Quindi ridurre la secchezza idratando la zona permetterà di ridurre ulteriori fattori che vanno a creare, a incidere su quella che è la secchezza cutanea e quindi sulla lesione. Quindi l'idratazione è fatta. L'idratazione è il paziente che ha particolarmente cesa sudorazione, ad esempio, un diabetico o un paziente più anziano che non riesce bene ad asciugarsi fra le dita perché ha difficoltà del visus o difficoltà motorie proprio articolari nell'abbassarsi. Utilizzare un prodotto che asciuga, ovviamente una polvere che va ad asciugare tra le dita permette sicuramente di ridurre la sudorazione. Perché quei pazienti che hanno le dita attaccate, lavano il piede e non asciugano in mezzo, anche lì in quel caso, se c'è la ritenzione di umidità, formerà macerazione. Se la macerazione non viene trattata, porterà la formazione di lesione ulcerativa anche all'interno delle dita interdigitali. Quindi in questo caso questi consigli devono essere ascoltati anche dai figli parenti o caregiver. E devono dare ovviamente una mano a quelle persone che non hanno, quindi disabili, o che hanno delle impotenze funzionali e motorie o impotenze visive nel poter capire e trattare alterazioni iniziali del piede. Guarda Doc, ci stai aprendo un mondo, perché nel frattempo che noi cerchiamo di focalizzare su un punto l'attenzione, poi ce ne sono tante altre da vedere. Vediamo se riusciamo a guardare, abbiamo proprio qualche altro minuto, se riusciamo a guardare un altro caso, così le persone che ci sono adesso con noi. Allora, questo è un caso di trattamento post-operatorio, sotto la medicazione. Quindi di fatto che succedeva? Che l'unghia si era completamente scollata. Non è Halloween, giusto? Non è un trucco. Non è un secondo dito assolutamente. L'unghia si era completamente scollata, si era staccata completamente, in seguito comunque all'intervento e alla medicazione sottostante. Quindi prima visita è quella in alto lì a sinistra. Dopo il trattamento, quindi abbiamo pulito la zona, abbiamo trattato la zona, deterso la zona, tutta una serie di cose, medicato la zona, inizia la epitelizzazione, cicatrizazione completa. Non riesco a capire se quelle carne o... Quello è tessuto di granulazione, è tessuto, è carne. E sopra? Sopra l'unghia? La parte cristale è l'unghia. Sotto è aperto, cioè l'unghia non c'è più, è tutta carne, chiamiamola così, tessuto. Quindi non è l'unghia ricoperta? No, quello è tessuto di granulazione, cioè quella lì, l'unghia non c'è più, si è staccata completamente. Ok. Schizzata completamente via. Mamma mia. È rimasto solo un frammento d'unghia che è quel frammento che nell'immagine in basso ritroverai, perché ovviamente lì è stato un ulteriore trauma teleamatrice, non indotto ovviamente da noi, ma dal traumatismo precedente e di considerare se il nostro obiettivo era evitare che si infettasse il dito. Cos'è quella polvere? No, quella non è la polvere, quella è una crema? No, no, quella è il trattamento successivo, è la fase successiva alla fase di granulazione, quindi sta iniziando a ripetelizzare. Ah, perfetto. Ci sono una serie di fattori che vanno a migliorare il tessuto. No, in questo caso non va messo nessun tipo di polvere se non nelle ferite particolarmente diciamo cavitarie si inserisce una polvere che favorisce l'esticazione dell'estudato. in questo caso no, abbiamo trattato con dei prodotti topici nella zona e ovviamente trattata dal punto di vista fotologico la zona. Terza immagine qui in basso inizia la ripetelizzazione quasi del tutto completa, immagine lì ripetelizzazione completa del dito e come noterai bene dal dito è come se fosse cambiata anche la forma del dito. Assolutamente sì, comunque fa una certa impressione anche guardarlo nella terza immagine cioè quella in basso a sinistra. Poi sembra se lo vedessi così d'emblè direi che quello è un altro dito no, è lo stesso dito del paziente perché il processo di infiammazione e di infezione vedi come cambia sensibilmente forma, colorito, dimensione, aspetto, tipologia. C'è un'alterazione proprio generale. Un'alterazione completa dal punto di vista vascolare, dermatologico quindi cambia tutto perciò è utile identificare le patologie e le situazioni vicino telefonicamente o diversamente non è possibile farlo perché la cura è mirata ed è personalizzata. Però io te la posso dire doc che siete proprio bravi. Ci proviamo. Ci prova. Va fatta una nota ecco, una postilla dal dottor Pacilio a San Giorgio a Cremano vengono anche pazienti dall'estero e da fuori regione quindi ci teniamo a dirlo per farvi rendere conto anche della bravura non soltanto di lui ma di tutto quanto lo staff. Ti dico solo questo piccolo corollario veloce abbiamo trattato settimana scorsa un paziente americano della Nato quindi dell'esercito insomma americano che sta qui in forza a Napoli che aveva un'infezione importante del dito e che di fatto era da un ospedale militare e un ospedale militare non l'hanno voluto assolutamente trattare perché diceva che era una problematica che non potevano trattare e l'hanno mandato da noi. Ok. E ovviamente adesso ha avuto l'esercito e è ripartito nuovamente per gli Stati Uniti perché la missione era finita ed è ripartito il piede sano e completo. Quindi è guarito quindi siete proprio insomma specialisti fino all'ultimo millesimo di granello che abbiamo delle nostre dita. Io ti devo chiedere Doc perché immagino che se lo stiano chiedendo anche da casa dalla prima immagine in alto a sinistra a quella in basso a destra l'ultima quanto tempo passa? Quindicina di giorni. No quindicina di giorni invece io immaginavo che poi invece bisognasse amputare il dito No 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 per la gravità insomma della lesione per fortuna no. Assolutamente. Quindi non è questo un caso di cui parlavamo precedentemente. il caso dove ovviamente la necrosi prevede la formazione di un tessuto nero importante e gran parte del dito magari compromesso cioè avete una porzione una metà o un terzo di un dito completamente nero è molto probabile che il terzo finale del dito sia completamente necrodio. però comunque pulita trattata la zona vista fatta una radiografia per valutare se già vi è una compromissione dell'infezione dell'osso laddove non vi è la compromissione cercare di adottare tutte le strategie tra le periodiche che possono ovviamente limitare ridurre l'attecchimento dell'infezione all'osso e facilitare la ripetizzazione perché anche le radiografie al piede in alcuni casi ovviamente vengono consigliate per escludere la patologia di osseomidite dell'osso soprattutto quando le ulce sono particolarmente importanti o croniche quindi quando ci sono da un bel po' di tempo per questo noi vi diciamo affidatevi sempre agli specialisti nelle mani giuste non fate mai da soli soprattutto quando i casi sono così gravi vi voglio dare nuovamente i contatti 081 27 50 21 superiamo qualsiasi tipo di difficoltà remora paura non ne abbiate andate perché così risolviamo quanto prima via Margherita di Savoia 25 unica sede San Giorgio a Cremano oppure potete acchiapparli ecco mi piace questo termine anche sui social Instagram c'è la mail e come vedete anche sui canali YouTube c'è un sacco di modalità per avere informazioni e capire non abbiamo scuse insomma il tempo è tiranno tempo sfuggit grazie prof il professore dottor Antonio Pacilio podologo e posturologo anche oggi veramente ci ha dato tante indicazioni fondamentali per la salute dei nostri piedi e non solo grazie buon lavoro e a voi vi do appuntamento domani in punto alle 11 ciao grazie a tutti grazie a tutti